Il calcio Napoli Il calcio Napoli Il calcio Napoli quindi non c'è una formula che è stata esclusa a priori né che è stata ritenuta dalle parti migliori in assoluto la cosa veramente nuova di questo incontro è la formazione alla Commissione bilaterale il cronoprogramma che ci siamo dati e il fatto che finalmente siamo entrati a parlare nel contenuto concreto una delle ipotesi è anche quella che l'ho fatto capire adesso che l'investimento non riguardi solo lo stadio ma anche parti immediatamente adiacenti allo stadio o anche non immediatamente adiacenti allo stadio oggi si è fatto un salto in avanti molto importante per la città non parliamo del machillace per capirci oggi abbiamo concluso il nostro incontro che è stato uno dei più importanti da quando ci siamo visti più volti del Presidente abbiamo convenuto sul fatto che entrambi avendo preso pubblicamente un impegno quello dello stadio ovviamente avendolo preso lo dobbiamo realizzare nel momento in cui io ripesso la carica di sindaco e lui la carica di Presidente del Napoli non parliamo di tempi biblici ma parliamo di tempi a misura di sindacatura non parliamo di tempi a misura non parliamo di tempi a misura